Mi sono avvicinato al metodo in cima un po' per caso. Ho visto un annuncio e mi ha colpito perché vivevo un momento particolare della mia vita in cui mi sono reso conto di essere vittima di un circolo vizioso creato da me stesso e non riuscivo più a trovare la via d'uscita. Oggi, a distanza di qualche mese, posso essere certo di dire che intravedo già i primi risultati perché mi accorgo di come sono cambiate già diverse cose. Di riflesso, questo mi ha fatto cambiare atteggiamento anche nei confronti dei miei più cari, di mia moglie e di mio figlio. Nel mondo professionale, non so per quale motivo, la mente incominciava a minacciarmelo pensando di poter perdere tutto da un momento all'altro. Quindi subentrata la paura del futuro, la paura di poter perdere quello che avevo costruito. Finalmente ho incominciato a prendere una piega diversa perché nell'ultimo periodo fortunatamente ho costruito qualcosa. Oggi ho più fiducia nelle mie capacità, mi sono reso conto che mi portano a dei risultati e vivo anche i risultati in maniera diversa da prima. Io ritengo che il metodo in cima sia un'esperienza che tutti dovrebbero provare. Lo dico perché io in primis ero scettico. Quando mi sono avvicinato non sapevo neanche a cosa andavo incontro. Quindi ho fatto un salto nel buio fidandomi dei miei coach. Ho eliminato finalmente dalla mia vita la parola ansia che mi logorava molto. Ho la certezza, non si ripresenterà. E ho fiducia in quello che sarà il futuro. Mi sembra di aver perso tempo fino ad oggi e non aver sfruttato questa occasione.